E' una lista numero 2! E' bello sentire l'affetto delle persone della cittadinanza che essendo molto concreti, perché molto spesso si sottovaluta la cittadinanza, ma sono loro essere più concreti di noi, che alla fine ci definiamo sognatori anche se concreti, sono loro che ci stanno anche già cominciando a dire, però c'è questa cosa, non me la dimentica, dobbiamo fare quest'altra cosa. E quindi ci stanno già dettando in questi minuti il cronoprogramma delle attività. Io adesso sto parlando come rappresentante di Gioia e ne sono particolarmente orgogliosa, perché credo che dal cilento collinare, dal cuore del parco, deve nascere una positiva proposta, perché dobbiamo essere contributivi ed essere capaci di dare quello slancio in più anche al parco, nel suo complesso. Quindi io sono orgogliosa di rappresentare le comunità di Gioia e Cardile e cercherò di fare del mio meglio. E sono sicura di poterci riuscire perché non sarò sola, proprio perché queste persone sorridenti che vedete alle mie spalle, dal primo all'ultimo, anche chi non è stato eletto avrà un ruolo. E questa in realtà da parte mia è una minaccia. Ecco, davvero un bel risultato. A chi lo dedichi? Lo devo dedicare alle comunità di Gioia e Cardile, a tutte le persone, chi ha contribuito esprimendo il voto per noi, chi non ha votato noi ma è stato ai comizi e ci ha comunque ascoltato ed è venuto vicino a noi a dirci la sua opinione, anche a spiegarci perché magari non ci avrebbe votato. Quindi io lo devo dedicare a tutti gli abitanti di questa fantastica comunità perché sono persone nobili. Ecco, ora come intenderete lavorare? Beh, questo lo sveleremo poi, altrimenti tu non avrai più motivi di farci le interviste e soprattutto di conoscere uno a uno gli altri. Quindi dovrete aspettare, ne vedrete di belle. Grazie a tutti.